ok abbiamo iniziato ciao sonia ciao elena ciao a tutti vai sonia raccontaci questi sono i miei cinque punti quelli che avevo già scritto poi ci avrei anche altre cose allora da piccola praticamente sogniamo sempre che nel campanello della porta appunto suonava io aprivo poi c'era un fermo e attraverso sto fermo entrava una manaccia brutta secca nera una specie di strega ma non mi ricordo bene perché ci ha avuto 5 7 8 anni non mi ricordo e poi questa mi dava una forbiciata sul fianco e sto subito ce l'ho avuto per parecchio poi quando ero piccola all'elementario ero brava per una secchiona e facevo sempre a gara con la mia compagna per andare a portare il compito prima degli altri poi in giorno non so come mi sono venuto in dubbio ho fatto un errore di calcolo e questa ed è lì ho cominciato sempre a sbagliare la maestra ma dudo strappa la pagina dal moderno di bella che si usava però poi non è cambiato granché poi ho fatto il liceo insomma si ero ride calcolo li ho sempre fatti quindi matematica si diciamo che si faccio vabbè adesso non serve più abbasso un po il volume sentiamo un eco gigantesco della nostra voce abbassa il volume del computer di almeno quattro tacche vediamo se va meglio così va meglio quindi tu hai fatto questo errore di calcolo la maestra ti ha umiliata no no la maestra no non mi ha umiliata mi ha dovuto strappare la pagina perché ci avevo tutti i dieci e questo era un sei un otto mi ricordo quindi per farmi riprendere perché io da lì poi sbagliavo sempre mi ha strappato la pagina quella nudi bella come dire non ti preoccupare che non è successo niente no l'ha fatto diciamo per beh però poi dopo continuando a fargli sbagli lo stesso pure al liceo ma non so se era distrazione cosa fosse poi diciamo la mia vita sentimentale nasce o fega posso dire diciamo che ho incontrato sempre delle persone a parte malate io faccio l'infermiera oppure sempre un po' diciamo strane con cui alla fine poi non ho combinato capolo infatti adesso sto sola da dieci anni chi se ne prega ehm quindi non so se sta anima gemella esiste mai esistita incontrerò mai non lo so poi sempre quando ero ragazza una notte stavo a letto da sola ho sentito come fare sesso con niente perché non c'era nessuno con me ho sentito proprio il peso e anche piacere da questo rapporto sessuale non so stavo sola quindi boh non so sesso con niente molto alto ancora non c'era nessuno ma ho sentito proprio il peso della persona come se ci fosse qualcuno ma in realtà non c'era nessuno tonia abbassa ancora un po' il volume che è molto molto alto io che strillo ma te abbasso la voce no 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 è la mia voce che ritorna ah scusate vi dirò che questa è la mia prima sì è il mio primo già le portate che ci senti ma non in stereo tipo stadio no devi sentirci giusto tu no io ci io vi sento bene so io che strillo perché è l'enfasi che ne so poco aspetta ora io abbasso un altro po' ok ok poi poi hai tre gatti un'altra cosa che non porto a termine le cose comincio tante cose sono creativa voglio fare questo voglio fare quello poi alla fine niente mi stufo e lascio tutto a metà pure la casa mia è un casino perché dovrei mettere a posto comincio una cosa comincio l'altra e poi rimane tutto un casino non riesco a sostenere Sonia domanda tu tieni le cose e non le butti? eh sì eh sì conservo tutto in casa questo mi ricorda quello questo mi ricorda quell'altro c'ho difficoltà a buttare le cose diciamo in realtà questo è vero Sonia hai dei mucchi di roba in casa? cioè sono mucchi perché non le metto a posto più che altro ma no no hai dei sentieri per andare da un po' all'altro? no sono solo disordinata nel senso che ne so c'ho devo mettere a posto i panni e li ammucchio poi il siro poi li coso e rimane lì questo mucchio e vale anche per sì insomma sono disordinata non cioè non me ne questa casa a me mi come dire non mi piace perché in questa casa in questa dove abito che casa mia ci ho vissuto convissuto con una persona poi alla fine il rapporto è finito molto male perché questo mi ha anche sockerizzato insomma mi ha mi ha trattato molto male sì no tipo mi sono citofonato le tredde notte non mi faceva dormire mi seguiva sempre e quindi diciamo che in questa casa c'è il ricordo di questa persona e quindi come dire come se non ci volessi stare come se non la sentissi casa mia che in realtà poi è casa mia capito ti indispone eh sì come di non non che la odio però non la amo ecco perché vivendo sola essendo casa mia uno dice sai te la curi te la tieni pulita come fosse una bomboniera invece a me non me ne frega niente ora non lo so sarà pure che c'è sto poco che sto sempre al lavoro io come ripeto la mattina mi alzo alle cinque alle cinque e mezza quindi la sera torno tardi oggi c'era un casino che Roma è piovuto tutto mezzo allagato mi so forza per tornare a casa ci ho messo un'ora e vabbè comunque e questo è quanto poi la mia famiglia è molto è era perché non c'è rimasto più nessuno sono solo io sono morti tutti mio padre trent'anni fa mia sorella dieci anni fa e mia madre cinque anni fa e queste persone al di là di mio padre erano molto 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 credenti praticanti e c'era anche un padre esorcista da cui andavano sempre e mia sorella cioè mia madre li cuciva pure i sai vabbè questo era per dire che poi guardando le vostre sessioni io pure ero diciamo credente però non ero praticante come loro poi vedendo queste vostre sessioni insomma mi viene da bestemmiare ecco sono arrivata all'opposto non capisco perché ecco è brutto cioè è una cosa che fatico cioè io non voglio ah vai liberatorio vai vai con un porcone eh ho capito io poi lavoro pure per il Vaticano perché io non so se te l'ho già accennato ma io lavoro siamo registrati eh eh stiamo registrando ma vabbè l'importante no no per me va bene l'importante è che non me lo fai censurare tu dopo eh perché io non censuro più niente ah eh cioè se vuoi dire dove lavori mi fa bene vabbè insomma per me va bene però non è che dopo mi dici eh mi puoi censurare perché devo fare un lavoro pazzesco quindi no no c'hai ragione vabbè eh vabbè lavoro in un ospedale vabbè chi se ne frega no nel senso che sai lì la messa ti fanno andare a messa andavo a messa pure lì diciamo nella chiesa dell'ospedale perché ero credente poi tutto questo poi per dire che 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 dopo che sono morte diciamo l'ultima morte è mia madre cinque anni fa e volevo morire pur io adesso bianco e vabbè e mi viene un tumore all'utero e ancora sto facendo scusate ma io mi commuovo sempre ti aiuto io hai invocato la morte ti è venuto un tumore un cancro uterino e oggi mi hai scritto sei ancora meno mata che significa vabbè significa che non c'ho più questi organi ecco e quindi anche a livello psicologico a parte che non mi frega niente nel senso che comunque stavo in menopausa perché ho una certa età ho 60 anni però anche l'idea di andare cioè di trovare un compagno che uno ha dei rapporti io comunque ho delle non sono proprio perfetta ecco diciamo in quel senso e niente poi ciò riguardo il fisico ho sempre sofferto di asma poi ogni tanto mi venivano adesso raramente tipo che mi si chiude la gola tipo un senso che mi strozzo e mi tira l'occhio e l'occhio mi lacrima e c'ho tutto questo diciamo come qualcuno una cosa che mi tira e da che dalla gola va a finire all'occhio poi comincia a tossire come una dannata e poi mi passa e poi ho le varici questo è un punto nuovo no vabbè se potevo chiedere cioè avevo questi domandini sulla salute e poi basta faccio solo questa cosa un incontro sempre quando ero piccola sul treno stavo andando sul treno da sola ci ha avuto 15 16 anni e nel compartimento diciamo c'era un signore una certa età anziano con gli occhi azzurri e i capelli bianchi che mi guarda mi fa una specie di ritratto poi mi dà un bacio sulle labbra strane incontro io vabbè era così un episodio non so chi fosse e basta e vabbè poi sì ero ci avrò avuto 13 14 anni forse 15 e poi stiamo dando i gatti ce ne ho tre me ne sono morti tanti in maniera brutale e quindi ho aspettato 10 anni per riprenderli poi mi sono capitati eccoli qua ne è arrivato uno mentre l'hai chiamato che è leggermente sovrappeso leggermente solo eh lo so questo c'ha la fib l'ho preso che era mezzo morto e quindi gli davo da mangiare ma stava sempre a piedi mangia 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 stava una buffa adesso il veterinario mi ha cazziato perché dice che devono dimagrire io glielo tardo mangiava io ne ho anche di meno però diciamo che avevi quattro gatti a un certo punto non ne hai più trovato uno e questo diventa grossissimo sono tutti morti malamente uno l'ha ammazzato il cane uno è cascato dal balcone uno è venuto a tumore l'altro è avvio insufficienza renale e quindi alla fine non li ho voluti più perché stavo troppo male e poi però mi sono ricapitati adesso ce ne ho tre ecco tutto e quindi va bene Sonia se tu ti compri una caffettiera e si rompe che fai? ovviamente non si può riparare la caffettiera non si può riparare la butto però ultimamente sono un po' cambiata perché sto lentamente buttando qualcosa qualche oggetto perché siccome io poi sono amante del bricolage provo sempre a riparare tutto però che ne so Sonia basta un po' questo volume perché ogni volta che parlo sembra che ci sia volle morte dietro Sonia quando hai iniziato ad accumulare oggetti? dopo che se n'è andato lo stalker? sì ma non è che io accumulo oggetti perché non li non li accumulo è che sono molto cioè non li metto a posto lascio tutto in giro capito? per esempio qui di lato c'è un mucchio dei panni che li dovrei stirare da non so da quanto e l'ho lasciato lì perché non mi va e così cioè non è che io ho la casa piena di roba come quelle che si vedono a televisione non è ah è che no no forse mi si spiega da male è che che ne so prendo una cosa la metto lì e lascio lì poi la metterò a posto non la metto a posto rimane sempre lì però è una cosa che fa parte della mia casa non è che sono è disordine non è non è accumulo è disordine è disordine non sono accumulatrice seriale ecco sono molto disordine invece al lavoro è importante saperlo no no al lavoro invece sono tutto tutto il contrario questo disordine però c'è da sempre da quando prendevi buoni voti no c'è da quando è morta mamma anche perché quando c'era mamma diciamo che comunque a parte di lei faceva sempre metteva a posto lei però comunque vivendo con altre persone non è che uno può proprio insomma come dire lasciarsi andare in questo modo è vergognoso guido va bene iniziamo iniziamo ok vuoi Elena o di fare una pausa io sono a posto anch'io sono a posto mi sono sistemata prima mi disattivo il microfono Sonia fai tu faccio io uguale va bene stiamo già registrando quindi iniziamo direttamente tanto c'è il gatto un po' più magro che mi guarda carino che cerca disperatamente di morderti un po' ma non ce la fa perché è troppo abbondante bene iniziamo connettiti a Sonia conto da 5 a 1 5 4 3 2 1 dimmi come la vedi arriva una bimba che avrà intorno a 8-10 anni con le trecce salterellando ma una di quelle bimbe un po' un po' tizia tella un po' così che arriva e vedi che ce la vedo arrivare da in fondo la strada no mentre arriva come se buttasse giù ci sono altri bambini come se li buttasse giù come per dire tu no tu no scusate ok e Sonia si ti dà l'autorizzazione si si i bambini chi sono i bambini sono sono le difficoltà della vita nel senso vedo già da piccola tipo l'esempio che ci ha fatto no della dei calcoli di matematica elementari per lei fino a quel momento tutto è andato nella maniera più perfetta no era perfetta per lei mi faceva tutto giusto tutto e questa cosa di aver sbagliato il calcolo no per lei non era accettabile quindi l'ha mandata via cioè non è che ha assimilato lo sbaglio e poi superato ok era come se tutte le volte che sbagliava al calcolo era la prima volta e quindi lo sbaglio di prima lo dimenticava quindi questi bimbi sono come questo episodio dei calcoli tutte le cose della vita che arrivano che se non vanno in armonia e serenità come lei aveva previsto andava via proprio vedevo tutto come se i bambini fossero sai tipo hai presente tipo le caselle del gioco indovina chi quando eravamo piccoli no con tutte in piedi e quando quelle persone non c'entravano oppure buttavi giù no ecco quindi i bimbi che c'erano sui lati sul lato della strada lei li buttava giù come se fossero delle delle statuite immobili e le caselline va bene mettiti una d'eternum nella gola Elena così scacciamo completamente questo questa tosse fai velocemente la ricerca della causa esoterica di questa tosse elimina se vuoi per maggior benessere serenità bellezza tranquillità porta il tuo la tua tosse nel pianeta delle tosse della tosse e c'è la molli lì lì c'è la mia lì lì senti come ti senti bene sento le vibrazioni molto alte facciamo una prova lo stesso processo al mio pollice destro che è qualcosa che sai no volessi andiamo tutto il mio corpo tutto il tuo corpo e alla fine anche il corpo di sonia dopo tutto il processo coniamo un termine coniamo vediamo un termine benessere vedendo ci mettiamo nel senso molto esteso essere in forma in salute le ferite guariscono le tosse la tosse passa e se uno è sovrappeso di ma tende a dimagrire immediatamente e questo benessere lo diamo al gatto di sonia che qui si è presentato immediatamente già girato fatto un sacco di cose e che è un po in sovrappeso patatone pacioccuoso mani sono rappeso adesso è lì che ci guarda tra l'altro ok questa informazione adesso ce l'ha anche il gatto il gatto in questione a un edl o un'interferenza o è a posto non ha un edl dentro ma vedo un edl che fa spola tra tra il gatto e sonia ok chiama in etere con anche gli altri due gatti sono riguardanti cioè li riguarda questa cosa riguarda tutti i gatti di sonia anche un edl morti anche quelli che si fa il giro legato 1 legato 2 legato 3 così e questo che si è presentato è il più interferito quello che si oppone di più all'edl quello che si oppone di meno di più credo che si oppone di più quindi è venuto al posto degli altri che non sono venuti che non vedo come dire io non voglio se è come se fosse stato attirato dal nostro lavoro nella speranza di poter aiutare anche lui ecco va bene vibrazione di sonia 5 miliardi percentuale di consapevolezza 105 psp 36 40 qua 64 vite precedenti 3.216 percettuale di cervello utilizzata 9,4 ok voti un po alt allenanti no qualcosa in più qualcosa bene qualcosa così non male 9,4 molto bene tante tante vite quindi non bene se vuoi una consapevolezza media una buona vibrazione andiamo a lui all'incubo da bambina quando un'entità qualcuno le dava una sforbiciata sul fianco lei si svegliava mentre le facevano le abduction però si svegliava la ps si svegliava dentro a sonia no a volte durante le abduction guarda da fuori e in quel caso li rimaneva dentro rimaneva dentro sonia e e quindi aveva sopra come se come se mettessero le persone in uno scafandro no specie di cioè è tipo un lettino però con anche il coperchio sopra oscurato e usano vedo in questo caso come se ci fossero dei dei fori larghi come può essere un braccio dove dove loro inseriscono le braccia e lavorano da questi fori quindi la mano che lei vedeva era proprio del come le incubatori interferenti sì esatto come le incubatrici sì e perché la sforbiciata al fianco allora lì le stavano mettendo un un impianto poi altre volte facevano invece allora lì le hanno messo l'impianto poi a volte le hanno fatto dei taglietti più piccoli dove mettevano tipo dei fili avevano dei figli durante l'addaction prendevano l'energia o l'informazione poi li staccavano dopo ok quante sono le abduction allora quando era piccola li hanno fatte 80 entro i 15 anni e poi dopo una ogni ognuno ogni due o tre mesi più o meno come se dovessero controllare l'impostazione del lavoro che hanno fatto nei primi anni di vita come si chiama il progetto che riguarda la sonia decodifica dei pensieri perché perché cercavano di prendere i pensieri e poi li traducevano in vibrazione energetica e poi attraverso la vibrazione energetica li dividevano tipo pensieri positivi negativi tra virgolette tenevano registravano le vibrazioni dei pensieri negativi e poi li riproducevano durante il giorno ci sono delle entità mentali quindi che fanno in questo lavoro sì sì quante tre sono state anche quattro volte nella sua vita vediamo le livello se vuole nome e compito allora livello 2 livello 3 livello 5 ok quella di livello 2 vedo che lavora su di lei facendole ripetere sempre il pensiero vedo in questo pensiero che come allora tipo le un pensiero positivo rispetto alle stesse quindi magari o guarda come lavoro bene senza che lei neanche se ne accorga l'entità di livello 2 lo fa diventare negativo ok quindi vedo proprio come se fosse un cerchio no la vibrazione si alza vibrazione alta entità di livello 2 gliela fa abbassare quindi vedo proprio un cerchio nei pensieri ho fatto bene questo lavoro a no ma guarda qua no non va bene come come quella volta dei calcoli ok e lì c'è stato un periodo dove diventato anche di livello 4 la vedo perché come se da quel momento lì per tutto ciò che riguardato lo studio per lei non era mai capace ma proprio non era capace tanto secondo lei ok quindi vedo che era molto pesante questo c'era come se fossero stati i cerchi più grandi no adesso sono cerchietti e vi erano proprio dei cerchi grossi quindi era aumentata era più grande del valore sì sì l'entità di livello 4 allora le vibrazione magari si alzava anche di più ma poi si abbassava tantissimo cioè si era 4 ma quella quella di oggi che a 2 sì esatto ok la 3 di oggi c'era vedrà 3 quindi uguale e la 5 di oggi era 5 va bene le altre allora l'interno 2 no sì città di livello 3 vedo che quella che la fa sentire un po allora fa sì che lei si senta in colpa rispetto agli altri quindi fa fare in collaborazione vedo con un'entità eterica falconiforme e fa fare delle cose delle azioni normali con le altre persone magari no però in quel momento la fanno proprio agire in una certa maniera lei pensa di aver agito male quindi l'entità di livello 3 la fa sentire in colpa perché agito male verso queste persone ok e in conseguenza di questo lei si sente sola perché dice non sono in grado di mantenere dei rapporti ok quindi poi la volta dopo magari prova in maniera gentile ok l'entità e poi l'entità di livello 3 fa accadere qualcosa che fa sì che lei si isoli o se la prenda ok poi si sente in colpa così tutto un circolo vizioso così e la 5 la 5 è quella che le fa è quella che le fa tenere tutto in disordine conto aspettarsi ha già vista è la prima che mi apparsa prima città di livello 5 quella proprio che c'è io vedo quasi che l'esempio dei panni no panni puliti faccio di tiro fuori da tc stand sono asciutti di tiro via ok mi prendo di metto li sto per piegarli sto per metterli sul ferro da sull'asse da stiro è come se l'entità di livello 5 le tiri indietro le mani e poi le manda al pensiero ma no poi lasciarli li farlo poi più avanti quindi è proprio un frenarlo anche fisicamente c'è proprio a mettere tutto ovunque esiste nel caso di sony a un'entità mentale legata alla dispozio fobia però diciamo che è come se fosse lo step iniziale per poi diventare risposofobici cioè se lei non se lei non non avesse per esempio chiesto questa sessione ho lavorato su di se adesso non so se lei ha mai lavorato su di sé però se non avesse chiesto questa sessione a lungo andare potrebbe essere diventata disposofobica ok è come se queste entità spieghiamo che cos'è tengo tutto tutto non butto niente posso dire segnali seriali accumulatore seriale certo ho bisogno di una spugna per lavare i piatti ma ne comproventi perché magari magari poi no magari poi non la trovo più quindi anche cose utili anche cose che possono servire in grandi quantità peccato che poi magari esce dopo un mese una spugna per lavare i piatti migliore e io ne ho 19 vecchie e non l'uso poi ne lascio non sono portato a usare perché la spugna per lavare i piatti non è un grande esempio però le lampade e le lampadine a risparmio energetico sì no ne comproventi ma so che ne conoscerò una ogni quattro anni dopo qualche anno escono quelle nuove che risparmio ancora di più sono ancora più belle una bella più una luce ancora più bella quelle non le butto perché è un peccato le ho comprate tengo e da lì parte l'incubo è praticamente come se fosse l'inizio no nel suo caso io credo che queste entità di livello 5 potrebbe trasformarsi in entità di livello 6 e da lì partire già una disposofobia per poi di arrivare fino anche a livello 8 non vedete che disposofobici sono all'otto se quelli come dicevi tu prima col sentiero in casa sì ok ma c'è un entità mentale della disposofobia quella collettiva dc e tiva scusami sì 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 ok va bene metteremo la via perché ne facciamo vedere delle belle oggi esatto va bene andiamo alla causa al trauma perché è un trauma per forza della del grande disordine quando è entrata nella vita di sonia l'entità 5 la signora disordine e allora vedo mi ha perso questa immagine allora vedo sonia che ha tre anni ed è a casa di non so se una nonna una zia se una zia però quando una prozia ecco ho questa scena che questa zia ha avuto improvvisamente un era lì da lei era lì con lei e improvvisamente ha avuto un imprevisto urgente tipo è stata chiamata perché qualcuno è stato male sonia doveva mangiare con lei e ha lasciato tutto un casino vedo tipo la cucina piena di piatti in giro piena di cose e sonia che mangiava vedo lei piccolina che mangiava su questo tavolo pieno di cose quindi come se avesse avuto un angolino se versa per sé il piatto e basta questa zia agitatissima che cercava comunque di fare quello che deve fare per la bambina no perché ce l'aveva in custodia però c'era quest'ansia questa agitazione questo spavento e gesto del viso sonia si o no ti ricordi una cosa simile beh era molto piccola immagino no quindi c'era una zia con tanti oggetti nella tua infanzia non si ricorda può essere come insomma 60 anni ricordarsi una cosa di quando se ne hanno città e poi tutto ad un colpo questa scena è finita nel senso che lei è stata riportata dai suoi genitori immagino ma è come se nella sua memoria c'è solo lo spostamento dal tavolo alla porta di uscita della casa e poi il buio quindi forse non so se è legato alla morte o qualcuno che è stato veramente male di suoi nella sua entourage non so una nonna un nonno e quindi questa cosa ha fatto sì che lei è come se è un po questo atteggiamento che ha anche la scena che ho visto da piccola no all'inizio che lei le cose che non vuole che vadano che non vanno come lei vorrebbe ok le spinge via no quindi è come se lei accumulando le cose tornasse al momento prima che succedesse la morte o questa persona che è stata malissimo penso la morte di un nonno o nonno capito come quello che vedo c'è quel momento lì è quello che lei la scena prima di questa grossa ansia è lei che li mangia con tutta questa roba intorno un casino assoluto e poi il buio il vuoto quindi ha mandato via di nuovo la cosa che non che non le faceva che non le piaceva vedo questo tra questo è il trauma il trauma dove se ne va il mentale allora vedo sì 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 in quella parte probabilmente perché vedo che c'è tipo una zona forse avevamo già visto anche un'altra volta l'aveggia chiesto un'altra volta ma c'è una zona del cervello che è più o meno sopra lo cipite ma un pochino più su dove c'è dove fa dove la testa fa la curvatura ok quella zona del cervello lì e poi c'è una parte però mi sembra sulla destra che ci sono i traumi che uno cancella quindi non ti ricordi buio in questo caso e sulla sinistra ci sono i traumi con i ricordi tutti distorti quindi cambi la scena del ricordo lo fai come qualcosa che non ti fa stare così male come allora va bene impianti non è uno mentale che tipo un cerchio così verticale e in mezzo al cervello proprio poi ne ha due sul torace uno a destra una sinistra più o meno a metà del torace una destra la sinistra bene a uno in corrispondenza dell'ombelico ne ha due sulle cosce una metà più o meno e poi due sopra sul dorso dei piedi una destra e una sinistra entità impianti mentali se quello nel cervello circolare bene andiamo l'episodio a scuola ma nulla hanno una modello l'abbiamo già più o meno un po visto solo vediamo cosa succede quando la maestra strappa la pagina lì per lì quando ma scritto i punti pensavo che so sonia mi dicesse che aveva avuto un insegnante nevrastenica no e quelli che fanno le scenate ce ne sono stati un sacco almeno i miei tempi non con me però estremamente traumatizzante per i soggetti che hanno avuto l'esperienza di un attacco di nervi di un insegnante in ogni caso questa signora questa maestra strappa la pagina per evitare che il quaderno pieno di bei voti di sonia fosse sporcato da un voto più basso non insufficiente no ha sbagliato un calcolo bene i calcoli iniziano essere tutti sbagliati o essere sbagliati molto spesso diciamo che anche se la maestra l'ha fatto veramente col cuore veramente con ha cercato vedeva sonia che era proprio disperata per questo sbaglio c'è si disperava non come dicevo prima non faceva il calcolo ha fatto calcolo sbagliato per lei era una cosa che non si poteva fare quindi è come se cancellava questa cosa rifaceva il calcolo sbagliato quindi di cancellava la cosa quindi come se non facesse l'esperienza no se l'esperienza viene cancellata e la rifà uguale perché come se la ps dice c'è sempre a fare questa esperienza devi fare ok ma a furia di farla si era disperata talmente tanto che la maestra non sappia più come fare quindi ha pensato che togliendo la pagina che rovinava diciamo questo quaderno perfetto avrebbe aiutata e invece per sonia è stata la conferma la sua maestra che la elogiava tanto che le dava sempre dieci così la strappato la pagina è come se avesse confermato la sua incapacità e quindi lei se le fissa c'è ha fissato questa incapacità e quindi da lì in poi lei è stata incapace di fare i calcoli a livello eterico che è successo allora ti spiego questo meccanismo perché particolare allora sonia sempre fatto tutto perfettamente fino a quel momento no perfettamente per lei perché per lei la perfezione era prendere 10 se il voto se c'è quaderno perfetto sempre tutto perfetto da 10 se fosse stato lo stesso identico quaderno quindi scritto uguale identico ma i voti il massimo dei voti era 15 ma il suo quaderno così che al momento era perfetto era 10 per lei non era perfetto ok quindi sempre con questa spinta e questa ansia di arrivare al massimo di quello al tetto massimo che la società diciamo diceva che erano ok ma quest'ansia di arrivare sempre la comunque non era positiva perché era un'ansia quindi le vibrazioni di quella cosa sono basse sono erano talmente basse a un certo punto che è stata interferita da lì è entrata un'interferenza nuova che ha fatto sì che lei facesse tutto sbagliato mentale o eterica eterica chi di che tipo vedo un felinoide c'è ancora no chiamiamo la lì nostra era era legata proprio alla parte era l'esperienza era l'interferenza degli studi bene chiamiamolo lo stesso e vediamo tutte le altre eteriche un falconi forme che era che collabora con l'entità di livello 3 mi sembra che avevo visto adesso mi sembra si libera il 3 quindi falconi forme celinoide una mantide è un uomo del tempo praticamente tutto un plane 4 su 4 vabbè poi zeus si vede secondo universo se con la mantide sopra la oltre con zeus e mantide disincarnati e allora la sorella è arrivata quella zia che ho visto prima con la prozia ma sono legati a lei si riescono con lei la zia prozia dove la sorrana ecco cos'è dimmi dimmi la prozia da quella volta quando è morta la prozia che ha avuto quello sciocco e la notizia quel giorno che doveva appunto prendersi cura di sonia quando poi è morta quindi circa 20 anni dopo 20 25 anni dopo ok si è rimasta attaccata a questa cosa di rispetto a sonia come se si fosse sentita in colpa per aver provocato insonnia quello sciocco ok quindi durante la vita ha cercato in qualche maniera di aiutarla e sonia c'è questa zia ti viene in mente una prozia o zia zia no non ne viene in mente va va bene chiamiamo la prozia zia la sorella i genitori in realtà sonia aveva chiamato la mamma che diciamo con lei che ha parola a meno che gli altri proprio non si facciano avanti a nessuno a nessuno impedito di farsi dire due cose vedo che la mamma adesso vedendo film della nostra sessione no in eterico si sia resa conto di quanto abbia troppo trattenuto sonia ok come se la dovesse è come se lei si è sentita sempre che doveva sempre proteggerla e adesso si è resa conto che che l'ha fatto c'è esagerato non l'ha lasciata libera di essere se stessa ecco e quindi vuole dire questa cosa sonia che adesso c'è da lì e con questa consapevolezza avrebbe l'avrebbe lasciata più libera perché da qui vede adesso che è consapevole che comunque ce l'avrebbe fatta da sola ma che lei deve sempre essere di la madre era molto 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 religiosa anche la sorella vediamo altre vediamo tutto loro vedono tutte le loro entità 1 2 3 occhio di bue su tutte le entità legate alla religione di madre e sorella nude ma prive di qualunque corazza tuta alle genitali all'aria dell'entità ovviamente che c'è chi c'è come interferenza sì sì commenti perché aspetta che manda via a proposito di pulire ordinare al best pensare di a pulire militari allora c'è vedo satana è uno nel senso che che ridere è una religiose una religiose cioè ciao ciao ecco un religioso e c'è dentro al satana interferisce tutte e due lo stelle la stessa interferenza e è stata la stessa interferenza anche da da generazioni generazioni della madre della sorella che poi si rispecchiano sulla sorella basta rispetto alla religione c'è lui che è proprio allora io lo vedo proprio in questo caso nel loro contratto di cluster che portano da vite indietro su ognuna come se lui guidasse 4 dl attaccati di vento intorno qua a tutte e due 414 l'altra e lui è come se lì di gestisce muovendoli no proprio come se li facesse girare così facendo questo gesto come se creasse un cerchio energetico intorno a loro e che da lì non possono uscire quindi proprio una cosa fisse come se il pensiero i pensieri rispetto alla regione quindi devo pregare non devo peccare va escono no dalla mente devo pregare e poi arrivati a questo cerchio torno indietro e quindi ricominciano come un'ossessione no una come se fossero immerse in questi nei pensieri religiosi proprio da tra fatti anche così quando uno pregano quando dicono di pregare non esce più perché non ne basta mai poi ne fate troppe per te bisogna pregare per qualcuno esatto se invece pensate che cosa la preghiera è una pazzia è una cosa che la gente accetta senza neanche attaccare uno dei centomila cavi al cervello io devo dire delle cose perché così ma arriva ma chi l'ha detto dove sta scritto ma chi c'è dietro ma presentatemi non dico le prove scientifiche ma almeno una uno straccio di certezza è ma sai io ho chiesto la grazia e la grazia è arrivata e ho fatto il fioretto e la negazione di tutto quello che è più importante sapere il gioco è nostro noi siamo del nostro noi siamo dentro lo creiamo noi lo vogliamo noi abbiamo creato tutto anche satan abbiamo creato tutto e poi stata niente non nessuno tutto la religione tutto abbiamo creato e il padre che fa il padre lì che osserva allora lui ha l'interferenza diciamo quella principale è un grosso falco uniforme che vedo come se facesse fare sempre la stessa cosa come se come se lo facesse girare in cerchio noi si muove ma è come se falco uniforme le mettesse la realtà sempre così cioè questo lui e si muove se questi sono i piedi no falco uniforme di crea la via lui si può muovere solo così e quindi lo fa andare in cerchio in continuazione e quindi non va mai avanti il padre se la sorella che fa anche adesso è stata no se si si a tutte le la mamma si si c'è vedo proprio che gestisce tutte e due che vuole dire alla sonia la sorella adesso si vede queste cose vuole dire di assolutamente che ha fatto bene ad allontanare non essere più credente allontanarsi da questa cosa che è contenta che l'ha fatto che quando è morta perché è come se la ps avesse mandato un messaggio alla sorella ps della sorella avesse mandato un messaggio alla sorella che usciva da quella c'era troppo stare in quella zona in quel in quel tubo no di credenza religiosa e la ps spingeva ma la sorella era lì dentro e non non è riuscita a uscire e quindi è morta qual è la causa esoterica del fatto che sonia non è religiosa o non lo è più e fuori da questa trappola si perché ha vissuto un'altra vita e come nella dell'arbero nell'albero genealogica della mamma e ha vissuto un'altra vita di e quindi questa esperienza l'aveva già fatta non aveva già fatto l'esperienza e ha visto cioè ha imparato dalle esperienze quindi alla fine di quella vita lì a lei ha ha finito quell'esperienza non l'avrebbe più fatta bene apriamo il portale aureo salutiamo la mamma il papà la sorella invitiamo tutti i parenti del ramo paterno ramo materno di tutte le generazioni tutti quelli che vogliono presentarsi vengono venghino signori venghino e vanno nel portale aureo e dimmi se lo vedi sì 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 sono loro tre l'altro zia quella che io vedo come trozia non so e poi sono arrivati altri 83 persone benissimo tutti dentro anche la mamma il papà e la sorella no sì loro sono già andati sì sì benissimo causa esoterica della vita sentimentale sessuale assente sono gli uomini del tempo l'uomo del tempo l'ho visto prima sonia ha una fiamma o anima gemella nei paraggi da qui questi uomini del tempo l'hanno distolta sì allora l'hanno sempre distolta perché in eterico vedo sognano che cammina lungo il suo percorso di vita ok arriva a un certo punto che incontra la sua fiamma direi la fiamma ok anche da lei aveva che quanti anni c'è 7 ma però poteva sogno ha fatto gli occhi al cielo come dire non mi ricordo poteva anche essere sì che non so ne apporta compagni di un'altra classe sì sì cioè la proposta di lì pena e che sono intervenuti subito perché questa cosa loro avrebbero fatto un enorme percorso assieme solo che il rischio c'è stato sempre poi nel senso che gli uomini del tempo non hanno mai mollato su questa cosa perché dov'è adesso certo perché poi sarebbero incontrati perché tendono a incontrarsi si tendono a incontrarsi esatto non è sempre così dove adesso un uomo si è un uomo non è a roma roma ma periferia verso sud dire verso il mare venti chilometri venticinco chilometri ok vabbè stesso con un entità erano d'action per lo giochierà sì sì ma tre gatti va bene non è un punto quando invoca la morte gli arriva un cancro uterino per oggi non ha più l'utero causa esoterica allora l'immagine che mi è arrivata è la un po come è successo con con la sorella per quanto riguardava la religione il meccanismo della ps è lo stesso vedo nel senso che quando lei ha invocato la morte è come se la ps si fosse svegliata no perché questa cosa era stava per essere creata da sonia veramente e quindi la ps ha reagito per far sì che questo non non succedesse con provare a fare l'esperienza di attivare l'utero c'è l'utero l'organo della riproduzione no quindi di portare avanti la specie ok e quindi era proprio un un'energia opposta perché l'iperattività dell'utero invece fa e creare la vita le vibrazioni create dalla ps erano proprio quelle della vita invece ok ma in quell'istante sonia ha creato la morte quindi questa questa vedo proprio come se scendessero le vibrazioni tantissimo e la ps le alza tantissime questo scontro ha fatto sì che lei avesse avesse questa grossa malattia all'utero ok quindi che l'hanno tolto cause sottirica dei problemi della gola allora l'entità di livello 3 che quella che la fa contrastare con le persone esterne agisce anche agisce anche fisicamente proprio sul linguaggio vedo che è come se andasse l'impulso il cervello che arriva poi alle corde vocali è come se facesse uscire delle parole diverse da quelle che sogni avrebbe detto quindi agisce proprio lì ma quindi è un iper lavoro come se fosse un iper lavoro delle corde vocali e quindi poi si infiamma la gola si si chiama tutta la zona occhio che lacrima vedo più una causa emotiva più emozionale quale emozione come se non dovesse lubrificare di più l'occhio per vedere meglio la situazione fuori che non gli è tutto chiaro non è vede ben chiara varici nelle varie abduction che ha avuto tutte quelle abduction che ha avuto tutti i passaggi che le facevano di succhiare la sua energia per prendere le informazioni a livello fisico poi hanno dato questo fastidio qua questo sintomo qua vedo spesso questa cosa i punti sono questi io e tutta la sessione che ho in mente una parola disamore il disordine i pannili non c'ho voglia non ho una vita sessuale non ho una vita sentimentale e oggi viene fuori che la sua fiamma è lì che le ronze intorno io potrei dire mettiamo posto questa casa perché se arriva la fiamma non può entrare in quella casa e invece non lo dico perché lei la casa la deve mettere a posto per se stessa assi e questo deve partire da un iniziale lavoro su se stessi altrimenti quella fiamma lì non ci mette piede ma non c'è proprio il caso energia non c'è la vibrazione è una mancanza di voglia quella di stirare il mucchio di roba che non si è risporcata perché se da settimane con dei gatti che probabilmente ci vanno a dormire magari no ecco un bel grande si vedo proprio come se l'entità di livello 5 la fermasse fisicamente le facesse entrare in testa l'idea che possono rimanere lì quindi una necessità 5 va bene non mi sono dimenticato della signora disposofobia mi apro questa piccola parentesi personale creo dei master ad eternum ad eternum platinum a in frequenza altissima in indecifrabile sono talmente forte che sono inguardabili crea una bella specchiera da star del cinema e gliele metto tutto intorno anzi crea un uovo e la infilo lì dentro di sposofobia così che tutti quelli che sono connessi voglio proprio vedere se loro a gancino all'entità mentale collettiva ce l'hanno ancora informazioni a tutti gli interessati a cui che sono connessi a questa entità mentale su quello che sta succedendo quello che hanno deciso a sacrosanto ma per un'entità mentale collettiva un inganno un gioco dimmi cosa vedi vedo questo vuolo dentro con tutti gli specchi dentro la entità mentale collettiva di sposofobia fobia con queste ad eternum che ha le vibrazioni altissime quindi continuano a sparare fuori no però gli spero specchi gli specchi gliela rimandano no e quindi c'è dentro l'effetto come se fosse la reazione nucleare no che implode per poi bene bene così bene questa bella reazione va per sempre fino a che uno dei due perisce gli ad eternum non periscono tranquilli ma sono lì per sempre quindi l'entità mentale collettiva avrà un bel po da fare in ogni caso è disconnessa adesso da tutti immagino sì sì questo momento sì 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 perché è proprio isolata in questo uovo con dentro gli specchi prendi una persona qualunque tu sai bene no vai vedere se è disconnesso visto che non è ingerenza no lo faccio io e teoricamente è come se si fosse svegliato di colpo vedo come se fosse stato seduto su una sedia può essere della cucina non so tutto ad un colpo si è svegliato si è alzato è andato a sistemare ed ho tipo un cartone grosso dei libri dei registri è proprio è perché è troppo pesante quindi si mette a guardare e a buttare inizia a guardarli perché la cosa che avrebbe fatto distinto sarebbe stata prendere buttare via direttamente ma li guarda per nascondere la voglia di buttarli sì se c'è la questione memoria no ricordo dell'abitudine anche un po frena questa cosa e vedo che mentre fa questa cosa che riguarda come se si ricreasse il collegamento da lui all'entità mentale collettiva ma poi c'è guscio e quindi non si aggancia di lui va avanti a fare cioè riguarda per poi decidere quale buttare va bene la cosa nucleare va avanti sì sì assolutamente ok benissimo cosa vuole fare sony invece vuole andare al cluster andiamoci ci va lei no sì 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 ci va lei assolutamente e per ogni vita è come se ci fosse l'impasto della torta o c'è il pane non so perché lievito c'è come se avessero lievito ok delle piccole forme formine e c'è dentro l'impasto che lievita e quindi viene tutto fuori intorno no ogni vita questa cosa che a seconda dei contratti di quella vita è più largo più stretto apre il portale definitivo e ce li ha buttati tutti dentro sono chiuso sto facendo vedere come creare la d'eterno crea e poi l'ha messo lì benissimo andiamo all'avatar vedo vedo l'avatar come se fosse se spento come se spegne il bottone di un robot che rimane immobilizzato nella posizione in cui era via tutto ok ad eterno ma anche qua questi ad eterno che non crea sono simili a quelli che abbiamo fatto finora magari in platinum best però sono tutti uguali no quando io ti chiedo a non è che c'è alcuni li fanno scarsi no bene quindi fanno ma ok no no assolutamente ok c'è ancora qualcosa no c'è ancora decodifica dei pensieri programma no dell'entità eteriche mentali no eventuali collegamenti con entità mentali collettive no impianti abduction no com'è il suo emozionale c'è una base autostima ma ora non c'è più c'era 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 era c'era erano due emozioni molto profonde e una era una grande un grande una grande confusione da disordine mentale direi come definizione e dall'altra una bassissima autostima molto pesante no quindi io queste due proprie emozioni pesanti ok mettiamo una d'eterno ma rispettivamente nel corpo fisico nel corpo mentale nel corpo emozionale nel corpo eterico e nel corpo subliminale di sony no nuova frequenza e razione 30 miliardi nuova consapevolezza 152 anima e spirito 57 e 43 vite precedenti 1297 ok praticamente ha tolto due terzi cervello 10 c'è ancora il disamore no in casa al di là di quello che c'è nel fisico c'è ancora il disordine i mucchi di panni no io vedo vedo la vibrazione dell'armonia in tutta la casa i gatti sono ancora interferiti no uno dei tre che non hai visto tu elena è arrivato da un po di tempo ed è come impazzito di coccole si è usciato contro sony e in tutti i modi quasi da essere molesto nella quasi cacciato perché non so se è una cosa abituale per questo tipo di gatto in questo gatto o semplicemente ha fame no è aspettando la pappa però a me sembra un po insolito anche dalle reazioni di sony poi tanto dopo ce lo racconta c'è una causa allora molto insistente molto coccoloso la mano il mento la guala guarda ma non da tanto vero no no da 10 15 minuti se si è perché nel momento in cui abbiamo iniziato allontanare le le idee quelle dl che andava veniva abbiamo iniziato allontanare ci ha iniziato a vedere che stava c'è che l'avremmo eliminato il gatto si è sentito libero come se prima fosse sempre stato bloccato per fare questa cosa e quindi è come se avesse recuperato tutto il tempo perso quindi sentiva le entità di sony ok mettiamo una grande ad eternum nella casa anzi lo mette lei ovviamente ha fatto una cosa particolare ha creato una d'eternum e questo ad eternum è come se poi si è iniziato a girare su se stesso e mentre girava creva creava spirale infiniti ad eternum che poi sono diventati infiniti sono diventati una spirale enorme che copre tutta la casa benissimo messaggio finale di sony a se stessa in relazione a tutto ora sei libera da tutte le interferenze vedo armonia detto tutta vibrazioni d'armonia intorno libertà di alzare le vibrazioni quanto vuoi dovresti liberarti da dovresti capire qual è la situazione fuori dalla casa che ti limita la tua libertà di alzare le vibrazioni ok come se la riuscì quando esce cioè io la vedo adesso esce domani esce vibra altissimo poi arriva a un certo punto nel fare delle cose e è come se le sue vibrazioni si alzano e poi rimbalzano quindi non possono espandersi e quindi deve imparare a capire quando è che avviene questo meccanismo e dopo che l'ha consapevolizzato imparare che lei lo può contrastare che le sue vibrazioni sono più forti e che quindi può con le sue vibrazioni altissime spazzarlo via ok è relativamente al disordine relativamente alla vita sentimentale l'autorealizzazione allora l'autorealizzazione la vita sentimentale quello che suggerisce la ps è di proporsi ad amici amiche proporre lei che adesso organizzare magari allora direbbe a casa sua perché in eterico la sua casa è in ordine e con le vibrazioni dell'armonia ok quindi quando lei avrà sistemato tutto può invitare gli amici e le amiche da lei nel frattempo proporre qualcosa fuori quindi andare fuori a cena oppure andare a bere un caffè una passeggiata cose così con le amiche e le amici e questo le farà vedere che a livello sociale sia sbloccata che lei è libera e non ha più quel freno di sbagliare e poi di isolarsi perché ha sbagliato no quindi sentisi il corpo tutte queste cose qua a livello sociale e poi invece per per coltivare la sua il suo dialogo con la sua ps ok e per riportare l'ordine in casa il suggerimento dico la immagine in eterico che vedo quindi come se dovesse suddividere ogni stanza i settori no ok quindi poi per un settore immaginarsi come lo vorrebbe idealmente quindi magari il letto il suo letto ideale potrebbe immaginarsi o cercare il suo letto ideale e mettere un letto che per lei è quello più bello che potesse avere e così anche per le lezzuola e non so copriletto quello che cosa che è ok quindi iniziare così e per ogni settore di ogni stanza e della casa fare questa cosa qua quindi non importa se c'è ancora disordine intorno ma proprio amare è come se le portasse l'amore il suo amore per lei nella casa e quindi la vibrazione dell'amore che si alza ma anche il mucchio di panni diciamo sporchi invece di non avere voglia dietro c'è una possibilità di sentirsi poi molto bene nel suo caso quindi è vero che c'è una non voglia perché faticose nessuno voglia di farle se cosa no ma c'è anche una grande leggerezza soddisfazione e contentezza verso se stessi essere fieri di se stessi quando poi il lavoro è fatto quindi non eliminarlo il mucchio di panni sporchi è un'occasione mancata di stare bene veramente bene molto bene ti rinuncia quindi poi non è possibile dire ma io sto male è avere un'occasione per stare persa o continui a rimandarla sì assolutamente poi vedo anche nella nella sequenza del stirare e piegare i panni è uno di quei movimenti ripetitivi che possono essere un po meditativi ok quindi di comunicazione con la ps o come fare una cernità dei libri o una cernità di documenti è comunque un movimento ripetitivo cadenzato che fassi che tu entri in comunicazione con la ps va bene qualcosa da aggiungere e dice tu adesso sei piena di amore l'amore per te che puoi portare all'esterno perché fuori c'è solo armonia adesso e quindi non non perdere l'occasione assolutamente cogli questa grande possibilità di serenità conto a tornare ti sconnessi che allora da tutte e tutti dimmi quando sei pronta continua la registrazione eccomi conto da 1 a 5 1 2 3 4 e 5 apri lentamente gli occhi buonasera ciao ciao come stai elena bene bentornata e sonia devi attivare tu il tuo microfono perché io non posso attivartelo quindi quel tasto barato si brava no sei brava sei brava sei brava come stai bene è sempre una vita come è talmente pieno di altre non c'hai un'idea tua sei tipo un automa un robot no cioè fino adesso ho fatto una specie di vegetale insomma perché ogni cosa che volevo fare l'ho bloccata il sentimento bloccato quello bloccato gli impianti le adaption meno male che l'ho conosciuto e poi per caso perché sennò stavo lì a fare come dici tu diventavo l'accumulatrice seriale terribile ma quel gatto fa sempre il gatto sono due gatti due fratelli che ho trovato in ospedale e me li sono presi però non sono mai stati molto affettuosi più che altro quella era la femmina e non è cioè viene solo quando c'ha fame due due moinette poi scappa quello più affettuoso invece il ciccione poi c'è un altro fratello che non l'hai pure visto lì che girava quello una via di mezzo però questa amicia così tutta questa diciamo appiccicume non l'ha mai fatto addio diceva che due stanno sempre insieme fra di loro dico io a casa sono ci sto poco dico sarà perché avranno detto questa non ci sta mai siamo fra di noi perché poi riguardo il ceppo da mangiare gliel'ho dato verso le tre e mezza quando sono arrivata quindi voglio dire non è che in due ore mangiano ciccione si capirai che si retta a lui sarebbe un continuo comunque questa ambrosia di quest'episodio di tre anni io non me lo ricordo non saprei dire chi sia la fiamma a 17 anni ma io ma magari c'è stato anche solo una frase un ciao che l'uomo del tempo ha bloccato istantaneamente tutto e quindi poi però come ripeto si si è vivo ed evidentemente c'è nei progetti di entrambi quello di vedervi di te lo auguri lui magari perché io sotsidella non so questo magari c'è la famiglia moglie figli scoprirlo da sola intanto niente più disamore certo no quello sì perché se non giustamente se non ti vuoi bene da sola gli altri non è che prima è una cosa no non ricordo più proprio di cosa ma è perché comunque qua non ci può avvenire perché insomma siamo messo sono messa quasi quando parlavi della della coinculina o di quando vivevi con i tuoi no di quando vivevi con tua madre quando parlavi dei punti no quando c'era la mamma qua era tutto a posto perché quando vivi con qualcuno poi invece quando vivi da solo ma no quando vivi da solo è la stessa situazione devi vivere in maniera decorosa come se arrivasse una collega o un'amica prendere caffè all'improvviso certo perché alla fine non è che mi vergogno però insomma non è carino anche perché fuori do tutta un'altra impressione di una precisa che ne so ordinata sul lavoro sono terribile e invece a casa mi trasformo divento nel dottor jackie le mister haite volete voi di roma nato zona ma cazzo nelle sozzerie e queste cose qua monnezza 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 inglese era un attore inglese poi no lo sai ha doppiato però il romanaccio no ah sì certo doppiato milian è vero che era inglese volevo vedere la versione originale come se fosse stata la voce di quello lì che il figlio pure fa l'attore non mi ricordo il nome ammendola ammendola avrebbe avuto tutto successo poi c'era pure bombo le piavi schiaffoni certi tempi ma hai fatto morire schiaffoni va bene registriamo finiamo la registrazione resta solo tre secondi ancora in linea sonia ciao ti ringrazio abbiamo vi abbraccio un abbraccio virtuale qui che siamo lontani però insomma ricambiamo nel corso del tempo magari ci rincontreremo insomma però vedo come va io speriamo di no diciamo speriamo di noi se ci vogliamo incontrare per perché ci devi dire delle cose belle e vi invito a casa no 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 più ci fai vedere quanto tutto bello pulito e quanto è magro il gatto ciccione il gatto ciccione si ancora là stanno tutti buoni meglio così interrompo la registrazione ciao a tutti